Forne con... Dove sei stato? Forne con... Dove sei stato? Wow! Sì! Wow! Sì! Dette... No! Dette... No! Exil! Benvenuti! Exil! Benvenuti! Exilag Jamah! Benvenuti in pace! Exilag Jamah! Benvenuti in pace! Geri Jeff! Grazie! Geri Jeff! Grazie! Nye Wal! Entra! Nye Wal! Entra! Dama labaga ham! Vorei konosherti! Dama labaga ham! Vorei konosherti! Nanghadef! Come stai? Nanghadef! Come stai? Manghi fi! Sto bene! Manghi fi! Sto bene! Geri Jeff! Surnah! Grazie! Ho mangiato molto bene! Geri Jeff! Surna! Grazie! Ho mangiato molto bene! Buongiorno! 23 Buongiorno! 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 Grazie a tutti.